Che novità per i fan di Salmo. Il rapper Sardo ha completamente spiazzato i fan con una notizia che lo riguarda. Si esibirà nei prossimi giorni. Da settimane c'è un nuovo DJ sulla rete. Si tratta di DJ Triplo, comparso su Instagram con una sua pagina personale e che a oggi conta poco più di 5000 followers. I più attenti si sono subito accorti dell'incredibile somiglianza. Altri invece non hanno subito colto il tranello. Perché DJ Triplo non è una completa novità nel panorama musicale italiano? È Salmo ad aver indossato una parrucca con caschetto biondo e a essersi buttato a capofitto in questo nuovo progetto musicale. L'immagine di sé nei panni del DJ è esilarante. A molti la sua parrucca ha ricordato il taglio di capelli di Nino D'Angelo nel corso degli anni più ruggenti della sua carriera. I video postati, poi, sono tutti da ridere. Il rapper Sardo trapiantato a Milano si è fatto tatuare sulla coscia proprio la scritta Triplo, il nome del suo alter ego. La notizia ancora più bella è invece di ieri. Salmo aveva di recente comunicato la sua volontà di tenere un nuovo live in Sardegna, completamente gratuito, per bissare il primo a cui però, a causa degli incendi che stanno devastando l'isola, in molti non hanno potuto partecipare. Promessa subito mantenuta. Si esibirà con le sembianze di DJ Triplo a Porto Rotondo domani, 5 agosto. Si tratta dell'ennesima dimostrazione di affetto per la sua terra natia a cui ha già donato circa 10.000 alberi di ulivo per ripopolare le zone boschive rimaste deserte dopo i devastanti incendi delle scorse settimane. Grazie a tutti. Grazie a tutti.